Dunque, otto settimane a casa e ora si esce, è finito il lockdown, si entra in pieno nella fase due praticamente, intanto scegliamo questo titolo, va, si riparte all'italiana per dire che effettivamente abbiamo ancora tanti dubbi, tante incongruenze, tante diversità tra regione e regione. Simona Maggiorelli, direttore di Left, ci aiuterà questa sera nella lettura dei giornali, ben ritrovata, ovviamente dobbiamo rallegrarci, dobbiamo essere responsabili, saremo responsabili, ti chiedo subito questa, mentre parli ovviamente, ci vediamo qualche prima pagina che arriva in questo momento. A te. Sì, io credo di sì, che saremo responsabili, gli italiani fin qui si sono comportati magnificamente e ora si apre una seconda fase, diciamo siamo stati in casa protetti, ora è come se fosse uno svezzamento, diciamo così, ma io credo che se la comunicazione da parte del governo sarà chiara, le persone si comporteranno di conseguenza, come abbiamo scritto sull'Eft, ma scritto in particolare Matteo Fago, appunto se le persone vengono trattate in maniera intelligente, le reazioni sono intelligenti. Però l'abbiamo visto troppo in questa crisi, allora si riparta l'italiana come titola il mattino in Puglia, spasata tra governo, regioni e sindaci, altra autocertificazione, speranza preoccupato, l'uso delle mascherine non basta e boccia che dice le differenze territoriali dopo il 18.